Mi sono spostato accanto a Maria Pia perché ha fatto ingresso in studio il nostro ospite e che lascio a te il piacere di presentarci. Grazie, lo vedete già inquadrato e padre Leandro Fossà, un italo-americano possiamo dire che tra l'altro unisce le due Americhe perché lei è nata in Brasile ma adesso vive e fa il suo servizio negli Stati Uniti, nell'Illinois, nella grande capitale Chicago. Ben arrivato a Padre Più TV. Grazie, come hai detto io sono padre Leandro, sono nato in Brasile, infatti la mia prima lingua è stata il Veneto, dopo ho imparato il portoghese a scuola e siamo immigrati in Brasile e quando sono entrato alla congregazione degli Scalabriniani mi hanno inviato a lavorare con gli immigrati in Chicago e ci stiamo lì. E da quanti anni si trova lì? Io mi trovo lì, sono arrivato il 2001 a marzo per fare la teologia, sono andato a fare teologia con un compagno che voleva andare a studiare in Chicago, io non volevo, avevo paura dell'inglese, io preferivo andare a Roma o Argentina. Mi hanno inviato a Chicago, lui è uscito, io sono rimasto. E quindi oggi conoscete anche l'inglese? Eh, anzi, dopo di tanti anni, sì. Molto bene, voi siete qui perché tra le altre cose siete arrivati in Italia per un congresso del vostro ordine, gli Scalabriniani, come dicevamo, ma anche perché c'è qualcosa che vi lega a Padre Pio, abbiamo saputo che ogni mese avete un momento particolare. Quindi sono qui perché un anno fa Scalabrini è diventato santo, padre dei migranti e a Chicago avevamo 14 parrocchie per il lavoro con gli immigrati italiani, anni fa. Adesso abbiamo solamente questa parrocchia del Monte Carmine con lavoro specifico per gli italiani, ogni domenica c'è la messa in italiano e una delle società più forti della parrocchia italiana è San Padre Pio. Eccolo, padre Pio, stiamo vedendo una foto, credo, del monumento vicino alla vostra chiesa. Sì, da fianco. La facciata, pure avevamo intravisto, se ci vuole raccontare qualcosa, delle caratteristiche umane anche dei suoi parrocchiani. Allora, questo comitato da San Padre Pio a Chicago è cominciato perché più di 20 anni fa un membro di questa società ha ricevuto un miracolo. Allora insieme con un'altra persona ha detto e perché non acquistiamo una statua di bronzo di Padre Pio e cominciamo una società? E dal 2005 è cominciato questa società con questa statua di bronzo. E lui, Pietro Camaci, ha ricevuto questo miracolo. E insieme a Jimmy Cerami hanno acquistato la statua, dopo hanno avuto i benefattori, è cominciato questa società che adesso negli ultimi anni facciamo una processione verso due chilometri e mezzo, una processione, facciamo la messa nel giorno della festa e facciamo anche un bello evento. Ma ogni mese, l'ultimo mese, l'ultima domenica di ogni mese, c'è la messa per Padre Pio e dopo c'è una condivisione degli alimenti dove si celebra insieme con gli italiani devoto del Padre Pio. Ho visto dominare tutti i nomi che hanno il suono italiano. E' un nostro piccolo paese di Chicago, piccolo paese di Chicago, c'è tantissimi, tantissimi italiani. C'è Rami, Camaci, siamo tutti da queste parti del mondo che abitiamo lì. Di seconda, terza, quarta generazione? Loro sono della prima, sono andato giovani. Io sono della terza, io sono della terza, ma loro sono della prima generazione. Prima generazione, nati qui in Italia, Pietro Camaci è nato a Sicilia e dopo sono migrati in America. Lei diceva scherzando che Chicago è una piccola città, sappiamo invece che non è così. È una grandissima città. Quali sono le criticità oggi che vive questa città e come la vostra parrocchia cerca di porre rimedio? Allora, questa città, nell'anno 1905, è arrivato il nostro primo missionario a cominciare questa festa della Madonna del Carmine portata dall'Aurentana di una italiana. Ricordiamo il 16 luglio. 16 luglio. Lo sapranno tutti, ma ogni tanto... Allora, ha portato questa immagine della Madonna del Carmine, ha cominciato questa festa che ha ormai 130 anni. La processione va avanti per 4 ore e la città si ferma. Dal sindaco a quelli che fanno i lavori pubblici, tutti fanno la processione. In questo piccolo paese, accanto a Chicago, perché non la facciamo in Chicago proprio, tutti quel giorno sono devoti della Madonna del Carmine. Come si chiama il paese? Merlo Spark. Sta 25 minuti dal centro, 20 minuti. E' cominciato lì questa festa della Madonna del Carmine e a quel tempo avevamo 14 parrocchie solamente con lavoro per gli italiani. Santa Maria Incolonata, San Michele, Madonna di Pompei, che ancora è un santuario ma adesso è gestito dalla diocesi, che fanno dalle volte messe in italiano. E lì a Taylor Street connettava tutti gli italiani che arrivavano a Chicago. E noi abbiamo uscito da Taylor Street per aprire altri posti, erano 14 parrocchie. Gli italiani, quando abbiamo cominciato, andavano a messa e rimanevano da dentro, perché i bambini facevano rumore. Avete capito? La storia della migrazione è sempre così. E dopo, poco a poco, hanno acquistato il loro posto dentro in chiesa. E adesso ancora c'è a Casa Italia, che è da fianco alla nostra parrocchia, moltiplici eventi per gli italiani. Ogni domenica io faccio una processione. Tantissimi santi della regione di Bari, santi di tutta l'Italia, fanno la processione con il loro standard, con la loro devozione, e si uniscono come club e società. Ogni domenica. E le volevo chiedere, visto che c'è fortissima ovviamente a Chicago la comunità afroamericana, da cui è uscito il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Lei in quegli anni ha avuto mai occasione, o comunque la vostra comunità, ha avuto occasione di incontrarlo o di scontrarci? Allora, Chicago è una città molto segregata. Nord non c'è afroamericani. L'afroamericani sempre l'hanno messo al sud. Cioè, Chicago, tu, se sei sulla via, il viale Capucini, e vai su il viale Frati... Come una volta a New York. Da un viale all'altro viale c'è una comunità diversa. Allora noi abbiamo sempre stato dal nord a ovest, sempre lavorando con gli italiani. I afroamericani erano sempre uno del sud. E quella divisione è... E anche quello aiutava per dividere. Il messaggio è chiarissimo. Voi arrivate qui, noi cominciamo qui. Sempre è stato così, Chicago. Allora, nelle nostre parti, adesso stanno arrivando qualche afroamericano. Prima non arrivavano. E noi non andavamo al sud. C'era questa divisione proprio marcata. Sempre è stato così. Chicago è sempre stata una città molto segregata. Adesso sta cambiando qualcosa, diceva. Sta cambiando perché anche l'ultimo anno sono arrivate 27 mila venezolani. Con la migrazione che sta uscendo da Venezuela, sta cambiando. Però l'afroamericano ancora, Chicago, si sente... No. Si sente fuori. Nonostante appunto la rivoluzione di Barack Obama. Anzi, e molti dicono che Barack Obama non li hanno difesi. C'è una comunità molto grande anche di polacchi a Chicago. La città che ha più polacchi fuori da Varsovia è Chicago. È un mondo a parte. Noi ci avviciniamo però per entrare lì. Loro hanno il loro prete, il loro suore, la loro scuola. Anche mantengono la loro lingua. Per quello che gli italiani si mantengono insieme. Perché ogni comunità di diverse lingue e provenienza a Chicago sempre è stata chiusa nel suo... Per non perdere la cultura e le tradizioni. Noi ci vogliamo mantenere in contatto. Mi raccomando, mandate le vostre foto. Grazie. Abbiamo soltanto un altro minutino. Grazie. Ogni ultimo domenica del mese, messa per Padre Pio e cibo. E una volta all'anno la grande festa. Ebbè, dobbiamo organizzarci, Maria Pia, per andare con le telecamere di Padre Pio TV a riprendere questa grande festa. La proiezione è molto bella. Due chilometri e mese o più o meno. Facciamo il rosario, la devozione con la statua, con il standarte, le donne che pregano, gli uomini vicino alla statua. Bellissima. Grazie Padre Leandro. È stato uno squarcio molto ricco. Grazie mille. Ci hai fatto viaggiare con le tue parole, con il racconto della tua storia, della tua testimonianza, fino a Chicago, senza muoverci dagli studi di Padre Pio TV, per cui ti siamo veramente grati e ti auguriamo buon proseguimento di lavoro nella tua parrocchia e nella tua comunità. Grazie. E sarebbe un piacere molto grande per la società, per noi, ricevere a Radio TV Padre Pio a Chicago per accompagnarci in questa festa, perché c'è tantissime che sono devotti e l'anno prossimo vogliamo venire in processione. Anche bene. Pellegrinaggio. Allora questo non è un addio, ma è un arrivederci. Anzi. Noi la ringraziamo nuovamente, diamo la linea alla regia e ritorniamo tra poco.